salve trozos e benvenuti in un nuovo video allora come sapete l'ultimo video che ho fatto è la scoperta dello slime se non l'avete visto correte a vederlo sul mio canale come tutti sapete non è uscito è stato fail non è la prima parte, la seconda parte se non l'avete visto andate di là a vederla allora è un fail allora io ho fatto, qua si è scritto nel titolo facciamo un unboxing di uno slime di tiger uno slime galaxy molto bello vedete vabbè andiamo a unboxarlo questo si fa così ah guardate c'è questa è che alcune cose di tiger non c'è quella cosa allora vabbè vabbè ignoriamo allora qua facciamo questo è provato a ignorare per favore vabbè tranquilli non è niente andiamo ah c'è questo non lo sapevo vabbè ok è tutto coperto di plastica beh me lo immaginavo ebbè dobbiamo ah no vado a prendere delle forbici ah no ci sono qua ok forbici forbici arancioni ok ah ok 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 allora andiamo bene andiamo bene dobbiamo togliere qua la plastica che se no sapete come lo apro con i denti no no scherzo io non sono brava a fare l'unboxing non l'ho mai fatto un unboxing beh ho provato a farlo ma non ce l'ho fatta però non si è dovuto male è una lunga storia vabbè eh tanto 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 stiamo facendo un altro canale non importa adesso la spazio 07 no perché questo è quello che conta ora perché la spazio 07 lo potete vedere ancora però non non carico più video capito ancora lo potete vedere ok sarebbe come questo andiamo a aprirlo oh oh è super liquido raga guardate cioè sembra una cacca è un po' appiccicoso devo dire la verità e si stira poco ah no 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 con un po' di impegno si stira cioè io lo slime del tiger ci l'ho avuto solo una volta oh guardate con la fra le dita è una cosa pazzesca vedete è una cosa super easy more questo slime vabbè si può stiliare però poco capito eh si perché si rompe sono quelli fatti in laboratorio non quelli fatti in casa cioè non non macchia cioè umidisce tipo lava le mani qualcosa del genere no super galattico galaxie parlando di galaxie ho fatto una nuova playlist che potete vedere su ehm il mio canale che è tiago santi chiuso lì ci sono alcuni dei 30 dei 39 video che ha caricato tiago e le potete vedere eh sono di gameplay come sempre solo gameplay e poi ho fatto un altro di realtà virtuale se volete giocare un po' con youtube però per quello dovete avere l'app perché se no se avete la web non funziona capito wow cioè è super galattico dovete stare qua per sentire come cioè come vedete è un po' easy more perché è liquidino è sofficino vabbè io come vi dico adesso è grigio perché si è mescolato un po' però prima era blu intenso cioè quando l'ho comprato ho detto vabbè tipo come qua vedi era così il blu si è mescolato un pochino però non fa niente ragazzi dall'1 al 10 questa recensione le do un 8 perché non si può stirare molto bene cioè si deve mettere un po' di impegno invece ci sono alcuni slime che sono perfetti cioè liquidini però che si stirano molto molto bene cioè io allora ci sono molti recensioni di slime caro versus non caro cioè pochi soldi capito quello di 2 euro come questo e la maggioranza delle persone mi è uscito il risultato che i slime cari sono i più brutti che i più appiccicosi quello i slime barati sono i più belli no? questo è così geloso no non geloso geloso ah una notizia anche ho già stiamo già scrivendo la sceneggiatura per il film cioè un'altra cosa che già non ho preparato niente della sceneggiatura con Tiago l'ho fatto alle sue spalle però glielo racconterò appena lui mi scrive ok vabbè perché lui mi scrive da ieri mezzanotte allora niente guardate che bello che bello raga saluto Antonio vediamo quel trucco questo trucco l'ho fatto in un video di fraspack 07 dovete vederlo guarda quello è super easy mar super cioè ti presenti quei video che mettono le dita le tolgono fanno squishy fanno squishy sono super geloso è una cosa bellissima allora è bebe è anche un po' di glitter non so se lo vedete vabbè raga faremo più avventure con questo slime lo mostreremo a tiago faremo reazione tiago allo slime di francesca cosa del genere o a natale che anche potremo fare tutti e due i canali perché saremo disponibili e possiamo fare anche vabbè niente è wow perché con tiago questo canale lo facciamo solo due giorni perché lo uscita due giorni qua allora niente anche perché c'è scuola allora aspetto dovete sentire c'è eppure guardate ve ne sono appena pitturate no perché l'altre vi ricordate quelle blu con glitter d'oro e e sono cadute tutte cioè c'è sprecato tutto e uh allora vediamo se lo vedete no wow che bello cioè è bellissimo ragazzi ve lo dovete comprare assolutamente assolutamente oh oddio mettetevelo nel braccio se ce l'avete c'è una cosa pazzesca poi andiamo a ricreare la foto abbiamo già otto minuti vabbè non 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 importa niente guardate cola fra le dita è liquidino cioè come vedete mi sto sforzando stilano cioè mi sto sforzando un bel po' ah ha rotto vabbè ragazzi 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 spero che vi sia piaciuto mettete like ovviamente se non sai che bomba guardate che pierle adesso è un pierle slime no cosa è successo sembra che c'è una gomma da masticare qua aspetta guardate raga che cos'è questo ah no è un pezzo di slime ah non si fa le scorigi come tutti gli altri no non fa le scorigi è è è è è è è è è adesso è super pierle glossy è super bellissimo slime potremmo fare un sacco di video con questo slime no poniamo anche la reazione di tiago come vi ho detto e anche ragazzi può fare anche le scoregge eccetera eccetera vabbè ragazzi spero che vi sia piaciuto mettete like condiviate questo video con i vostri amici così vi fanno la scoperta di fratello ango un canale bellissimo e allucinante eppure mettete like scrivete sui commenti quale parte del video vi è piaciuto di più o o quello che volete del film o qualcosa di ricetta per lo slime fatto in casa per favore che sempre mi escono male per favore ho bisogno ora ora una ricetta cioè anche tutti ago si anche tutti ago mettono una ricetta vabbè e iscrivetevi per non perdervi nessuna notifica e spingete la campanellina che fa cling 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 fate la sfoglia così guardate campanellina oh profumo di sca ora ora spera niente una cosa abbiamo perso la tartaruga la tartaruga e ciao ciao